Le piccole firme è l'enema della nostra comunanza e dei nostri paesi. Il tecismo è un'esempio, la nostra comunanza è stentata dal buono e noi abbiamo la responsabilità di tenere la domanda e seguire la gira in alto. Altrimenti le nostre piccole imprese saranno costrette a chiudere. Una compra, bella è una compra, le cose che occorre per tenere la nostra comunanza, viva e viventa, perché accenta, neva e ricca. Per comprare i tecchi d'uron, le nostre botteghe del posto, invece che essere online o dei mezzi da farsa, giusto per il gusto del far, dobbiamo contribuire per la vostra medicina e la vostra comunanza. Le una manche lavavalaute per tutti gli altri. Fare acquisti online potrebbe sembrare un'azione innocua, ma in molti casi il nostro click indebolisce la nostra comunità. tenere su la firma da chiudere, vuol dire anche tenere su il nostro volontariato. Manufatture e sceglie sinistre, un'altra di dur l'urier, chance per la nostra generazione dell'avvenire. Sentimenti forti, l'amore e il gusto che ne ha fatto che questione a che condì. Ebbene, quando le besegno devono prevalere dal Valk, danno di giro fuori di qua o online, piacere alla vostra comunanza. A puntina adesso, lasciate guardare questo video, giro fuori da Ush e seguite a sostenere l'economia della nostra Valk. Grazie a tutti.